Beh, comunque questo qua è tipico del PD, loro continuano sempre a vivere nel loro piccolo e torno a ripetere, il fatto che non si inviti un sindaco che è stato eletto e che comunque loro hanno perso Amofalcone anche perché probabilmente fanno questi giochetti è molto grave diciamo, in linea di massima però si sa che se non si invita il sindaco anche per esempio io mi ricordo anche la Seracchiani doveva venire qua a Gorizia sulla sanità almeno una volta l'anno, è venuta una volta sola e poi non si è più vista ecco quindi questo qua è molto grave, torno a ripetere, loro continuano a fare così se non si coinvolge tutta la gente di destra e di sinistra, poi chi non si presenta peggio per lui insomma, chi non si presenta ha perso però il tagliare fuori il sindaco di Amofalcone e la Cisina secondo me doveva essere invitata e comunque sono scelte politiche e poi alla fine si paga